La vita mia è la mia Bella raga, eccoci qua con un nuovo TG Schifo Stavolta per davvero Non ve l'aspettavate Ovviamente è registrato in precedenza E voi lo vedete il 21 se non erro, giusto? Eh sì, perché appunto c'è qualche collegamento Che dovreste capire Porco Dio Ed eccoci con la ristorazione del TG Schifo finalmente Era un po' attesa mi sa Meno male dai Oggi educativo perché sono in post allenamento Quindi vi parlo di quanto è importante mantenersi in forma Fare attività fisica due o tre volte a settimana Che fa sempre bene, molto bene Dovrei anche dirvi di mangiare sane Sfronzate simili però no vi dico fatelo perché almeno potete sfronzarvi meglio al weekend Durate e reggete di più l'alcol E durate di più anche ecco per i maschietti Quindi è molto utile in generale allenarsi penso Mi farà molto bene Come questo TG Schifo, come ogni TG Schifo Oggi Madonna Sono un po' in collasso perché appunto io sono poco allenato Cosa che non dovete fare voi Dovete essere sempre al massimo della forma Non quella rotonda magari, grazie Eh le battute da madonna Guarda che cazzo Che luce Che gioco di luci La regia qua proprio ha spaccato tutto Vabbè Buona Pasqua È vero che non ve l'ho ancora detto Buona Pasqua giusto Perché sto video dovrebbe essere uscito a Pasqua Giusto? Ditemi di no Vi consiglio di seguire sto cazzo di canale porco Giuda Perché vi aspetta cose belle Non il TG Schifo Mi spiace Non penso Però Ci sarà molto altro in futuro Pian piano le stiamo studiando Io e la regia e tutto Scenografia Fuochi d'artificio Ospiti Sensazionali Quindi questo TG Schifo serve A dirvi di allenarvi E a fare la pubblicità A me stesso Perché il TG Schifo si sa che Guadagna più views di qualsiasi altro video penso Soprattutto essendo Il nuovo ultimo episodio Questa volta per davvero Uff E ora che abbiamo quasi sciolto i muscoli Vi devo un po' salutare Perché tra un po' Devo tornare a casa A lavarmi mi sa Perché corre Come potete ben notare Fa un pochino pezzare E sono veramente Conciato Bella lì Bella raga Bella Palletigi Schifo Bella porco Dio Spero che il microfono abbia registrato Anche se quello delle cuffie mi sono dimenticato E vabbè Buona giornata E arrivederci Affanculo Sì analoplata Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti in